Ai nostri telespettatori, a parte il buonasera, diamo le prime indicazioni di quello che stiamo realizzando, voluto da noi di E.Abruzzo E, perché oltre all'ambiente, alla natura, ai luoghi, ai borghi interni, in questo caso ci vogliamo occupare di arte. Quest'arte sviluppata, in questo caso siamo proprio nell'anima sensibile di Peppino Liberati. Davila Magna, ceramista, partito da quello che poteva essere la tradizione della ceramica abruzzese e oggi invece avete modo di osservare le opere d'arte, perché poi dall'artigianato all'arte c'è un sottile filo che è difficile distinguere, però in questo caso quello che lui realizza non è utensileria o di uso quotidiano, ma è proprio la bellezza pura da poter esporre e di cui potersi vantare a livello artistico. Bene, Peppino Liberati è qui in questo angolo, in questo suo angolo molto confidenziale, dove lui forse riesce a vedere quello che realizza dopo che ha tentato di realizzare e credo che si autoproclama, come dire, soddisfatto. Peppino, a te la parola su quello che abbiamo visto e vediamo in questo angolo del tuo laboratorio. Allora, ti ringrazio per tutte le belle parole che hai detto, però ci tengo a precisare che io non sono mai soddisfatto di quello che faccio, altrimenti non si va avanti, perché se uno è soddisfatto significa che si ferma, invece la continua ricerca, la continua sperimentazione e cercare di fare il nuovo è quello che ci sta nello spirito per farti creare sempre di più. Io non mi leggo mai ai miei lavori, perché dopo che li ho finiti, per me già sono passati, io penso sempre a quello al futuro, a quello che devo fare e a quello che deve venire. Un'altra cosa che voglio precisare è che io faccio sia artigianato, perché comunque questo è un laboratorio dove sono coinvolte anche diverse persone, anche tutta la mia famiglia, i miei tre figli e mia moglie sono tutti coinvolti con questa attività, ma anche i figli, anche per fare artigianato si deve essere bravi, perché l'artigianato, è meglio essere un bravo artigianico e un pessimo artista, questo è il mio motto, perché oggi tantissimi si definiscono artisti, però non lo so, dopo di che la manualità e non conoscono le materie e le cose, non è proprio una cosa molto bella. Che devo dire? Io ho dedicato la vita al mio lavoro, è stata una scelta che già da piccolo, io già dalle medie avevo l'idea di fondare un laboratorio di ceramica, però non sapevo a che cosa andavo incontro, perché non sapevo che certi lavori al di fuori di certi luoghi non si può fare. Io ho dovuto sfadare questa storia e non è uno scherzo, perché ancora oggi, dopo 40 anni, io mi sento parlare di paesi dove non esiste più la ceramica, già da tanti anni, però il mio paese non lo nomina nessuno, nonostante sono 40 anni, fra qualche mese faccio 40 anni di attività e non ne parla nessuno, non è facile per un artigiano sopportare determinate cose. Se provo a dire qualche parola, passo anche per polemiche, perché la persona sembra, no, devo dire la verità perché mi è successo poco tempo fa, capito? Dici che io sono polemico, quando faccio certe osservazioni, io credo che non è giusto che dopo 40 anni di attività, io non dico che devono parlare di me, perché sarebbe forse troppo una pubblicità diretta, però parlare del mio paese, parlare di un luogo dove veramente oggi si produce ceramica e se ne produce di tutti i colori, di ceramica di tutti i tipi, perché io la mia vita e tutto quello che ho valambiato l'ho speso sulle attrezzature, perché ci tengo anche a precisare un'altra cosa, che non ho mai ricevuto un finanziamento e né un contributo per fare questo laboratorio di ceramica. Allora signor Liberati, io come dicevo prima siamo qua di fronte alle opere d'arte, quando lei progetta qualcosa e poi al limite all'opera viene anche segnato un titolo, ma lei sogna, progetta, il risultato che arriva, perché poi io so per certo che i colori, i materiali non sempre riescono a soddisfare quello che è il progetto. Allora mi parli un attimino tecnicamente di queste opere d'arte. Allora io quando realizzo i miei lavori, ma io non le considero opere d'arte, io le faccio perché mi piacciono, insomma, se gli altri lo vogliono considerare opere d'arte benvenga, però io sono molto estemporaneo, difficilmente progetto le cose che realizzo per me. Se devo realizzare su richiesta degli oggetti, allora sì, progettiamo perché dobbiamo comunque far vedere al cliente, al committente. Per fare certe cose innovative, certe ceramiche innovative, ci vuole una buona preparazione tecnica, si deve studiare. Io posso garantire che oggi, dopo una vita di lavoro nel settore delle ceramiche, io continuo a studiare perché è proprio quello che mi stimola, insomma, e continuo a sperimentare. Bisogna conoscere i materiali, le tecniche e tutto per arrivare a fare determinate ceramiche. E' così. E io devo ringraziare per questo il mio grande maestro Luigi Bozzelli, che adesso è morto, però per me è stato un maestro sia di ceramica che di vita e che mi ha dato, mi ha sempre stimolato per non farmi smettere nei momenti difficili, perché questo settore è un settore difficilissimo. Che vive perennemente una crisi. Sì, perennemente una crisi, però dico la verità, io oggi sono molto soddisfatto perché ci arrivano delle richieste anche da fuori regione e anche dall'estero, ma credo che il frutto di anni di lavoro, cioè fatti in maniera seria, insomma, e senza arronzare, come si può dire in maniera... e comunque di... anche la collaborazione dei figli che adesso stanno molto lavorando con internet e questi nuovi sistemi commerciali di comunicazione. Perfetto. Grazie, signor Liberati. Prego. Si presenta da solo il presidente dell'associazione che si occupa, la più grossa, la più importante in Abruzzo, che si occupa di arte. Quindi si presenta da solo, ci parlerà di quello che è accaduto e avvenuto a Pescara pochi giorni fa e poi sicuramente di quando ci siamo incrociati casualmente anche a Sulmona dove Peppino è stato premiato alla carriera. Prego, a lei la parola. Si presenta e ci dica anche di questa, insomma, in maniera ricca di questa associazione di artisti. Sì, allora mi presento, mi chiamo Roberto Di Giampaolo, ho preso da alcuni anni questa associazione culturale che nasce 13 anni fa da Bateggio e ho cercato insieme a un gruppo di amici che condividevano con me la passione dell'arte di sviluppare questa associazione per far sì che l'arte abruzzese, e non solo abruzzese, potesse avere un rilievo sempre maggiore. E in questo lavoro, in questo percorso, in questo itinerario che ho voluto fare, insomma, ho avuto la fortuna e il piacere di incontrare Giuseppe Liberati. Ci siamo incontrati, abbiamo parlato, abbiamo dialogato, ci siamo intesi abbastanza facilmente perché poi condividiamo un po' lo stesso pensiero, per cui è facile parlare e condividere un pensiero con chi, in effetti come te, vuole promuovere l'arte, lo vuole fare a 360 gradi. E quindi abbiamo iniziato insieme, lui è entrato nell'associazione, essendo un artista di grande qualità, poi ne parleremo un pochino più in dettaglio, ci è sembrato opportuno come associazione premiarlo, quindi dargli sia un premio alla carriera, ma anche renderlo socio onorario, socio onorario perché è un artista che merita di essere trattato in maniera diversa dagli altri artisti. Questo non per sminuire gli altri, ma per dire che ci sono delle persone, degli artisti che hanno dato qualcosa di più all'arte abruzzese e non solo. E quindi diciamo che è stato un onore, un privilegio per me, per noi dell'associazione Leio, premiare Giuseppe Liberati. Poi il cammino adesso prosegue insieme, ci siamo incontrati di nuovo a Sulmona dove Giuseppe Liberati ha avuto un riconoscimento, un premio alla carriera che a mio avviso è stato anche forse troppo tardivo perché lui l'avrebbe meritato già da parecchio tempo, però come si dice, meglio tardi che mai, un riconoscimento importante. Il premio Sulmona è un premio ormai arrivato alla 46esima edizione, storicizzato, importantissimo e quindi era giusto che Giuseppe Liberati, per tutto quello che ha fatto e per quello che continuerà a fare per l'arte italiana, internazionale, io non voglio limitare il lavoro di Giuseppe Liberati all'Abruzzo perché, come diremo poi in seguito, il suo impegno va ben oltre i confini nazionali. Adesso vi manderemo, come dire, idealmente in quello che è stato il premio Sulmona dove Peppino Liberati è stato premiato, la carriera e quindi ci sono le interviste di altri artisti, di personaggi che hanno scelto e deciso di premiarlo. Allora io la domanda la tronco subito, mi dica lei che cos'è questo premio, da quanti anni si svolge e la rassegna è rivolta a livello locale, territoriale, ma leggo internazionale, per cui ne sa sicuramente, certamente più lei che io, dia tutte le informazioni possibili su questo premio. Allora, è il 46esimo premio, quindi vuol dire che sono 46 anni ininterrotti, che va in onda tra virgolette il premio Sulmona. È una rassegna internazionale di arti visive, quest'anno abbiamo artisti dalla Cina, dal Messico, dalla Russia, dalla Gran Bretagna, dagli Stati Uniti e una grande rappresentanza di tutta l'Italia, tra l'altro. Sono 200 artisti, 191 nella sezione di arti visive e più 9 nelle sezioni collaterali di design, fotografia e architettura. Quest'anno abbiamo, nella ricorrenza del decennale del terremoto d'Abruzzo, abbiamo scelto di inaugurare una sezione apposita sulla architettura dedicata al terremoto, scegliendo i tre migliori restauri di opere rovinate dal sisma, scelti da una commissione di professori universitari di varie università. Invece poi, tornando al discorso, Giuseppe Liberati, che ha avuto un premio alla carriera, come è stato scelto, come è stato deciso, perché ci interessa anche questo aspetto? È stato scelto all'unanimità per il molteplice valore dell'attività di Peppino, di Giuseppe Liberati, sia come artista puro e sia come artista dell'arte utile, perché è un lungo discorso quello sull'arte, se l'arte deve essere assolutamente svincolata da ogni utilità e avere un'utilità sua propria, oppure se l'arte possa essere anche utile. Sappiamo che Giuseppe ha un laboratorio straordinario di oggetti anche per l'uso quotidiano, da cui è un capofila e un maestro, perché tra l'altro recentemente addirittura dall'Iran sono venuti qui in Abruzzo, il nostro Abruzzo, per imparare da lui stesso e lo stesso nel contempo lui ha realizzato gli arredi sacri nella cattedrale di Helsinki. E tra l'altro, come ultima cosa, tiene alta una tradizione che è quella nostra, abruzzese, dei cenamisti, ricordiamo che addirittura nel conventino di Michetti a Francavilla, secondo D'Annunzio, secondo Michetti, sarebbe dovuta sorgere un laboratorio di ceramica, quindi è una tradizione ai più alti livelli della nostra terra. Il premio alla carriera al signor Giuseppe Liberati, quali sono le ragioni, le motivazioni, come è stato anche accolto questo discorso da parte della giuria, se lei ne sa qualcosa in più? Io penso che era un premio assolutamente doveroso nei confronti di Giuseppe Liberati, perché ha una carriera che parla da sola, d'altra parte, anzi, secondo me è un premio che è arrivato forse anche con un pochino di ritardo per tutto quello che Giuseppe Liberati ha fatto nel corso di questi anni. Al di là della sua attività di ceramista, ottimo, bravissimo ceramista, fatto scuola come ceramista, ma al di là di questo è un artista con grandissime capacità. Nelle sue opere c'è proprio la sua anima, il suo contatto con la natura, che è una natura rivisitata, rielaborata, metabolizzata da lui. È riproposta l'attenzione del pubblico in una maniera fantastica, cioè davanti alle sue opere non si può che emozionarsi come mi emoziono io a vederle. Siamo in compagnia del signor Vitiello, componente della giuria, ovviamente critico d'arte, che viene da Napoli e ci darà qualche delucidazione in merito al premio assegnato al signor Liberati, ma anche in generale di questa rassegna che è ormai importantissima per l'Abruzzo e per gli abruzzesi. Allora, è innanzitutto una manifestazione internazionale, perché è un premio internazionale ed è da 46 anni. Ora è dedicato al Galetano Pallozzi, che è stato l'artefice di questo premio e che continua ad essere, diciamo, sul vivo. Siamo anche in compagnia di Pippo Panello e di Giuseppe Liberati, che ha avuto un premio speciale per la sua attività ceramica soprattutto. È un grandissimo artista che ha frequentato qui il premio Sulmona per molti anni ed è un premio veramente notevole, perché oggi, quest'anno, per questa edizione, la 46esima, abbiamo avuto 191 artisti, quindi significa che è un premio fortemente in risalita. Ovviamente ci sono artisti emergenti, storicizzati e sono aperti a queste manifestazioni, ad accogliere le ultime istanze. Quindi è un premio che controlla il territorio, controlla lo status dell'arte in Italia. Buonasera Sindaco, siamo in una rassegna molto importante nella quale è stata consegnata e conferito un premio importante a un concittadino. Ci dica due parole in merito e il suo elogio nei confronti del maestro Liberati. È un piacere parlare di un artista, perché mi orgoglisce stare qui, perché veramente Villa Magna è conosciuto, questo artista è conosciuto di tutto il mondo, non solo la Villa Magna. E per essere premiato su 191 artisti penso che conti molto. Per me è un onore stare qui, ripeto, per me come Sindaco e per Villa Magna intera. Quindi complimenti alla famiglia, alla famiglia Liberati, perché non è solo lui, è il capo, ma ci sono anche i figli che non ne sono da meno. Sì, certamente, diciamo anche perché il posizionamento di un laboratorio di ceramica nella cittadina di Villa Magna è un po' anomalo, nel senso che per tradizione e per cultura abbiamo sempre avuto ceramisti e ceramica in luoghi diversi, però Peppino si è riuscito è riuscito lui e con tutta la sua famiglia ad imporre un discorso che oltre di uso, materiale d'uso, ma anche materiale artistico. Quindi si è imposto in un settore veramente notevole per farsi conoscere. Sicuramente sì, anche perché l'ha detto lui prima quando è stato intervistato, gli hanno dato il premio, dice che è un artista o un artista non è un'artista.